Marino, una gara alla fine che ha regalato un bronzo oppure ha perso qualcosa? Sicuramente valutando la prestazione della squadra penso che ci manchi qualcosina. Sono stati bravissimi, abbiamo fatto una bellissima gara, purtroppo nel finale ci sono venuti a prendere proprio agli ultimi metri. Però grazie anche a Vendrame è veramente un podio, è sempre un bellissimo risultato anche al venato europeo. Sono contento anche per Vendrame veramente perché è passata una stagione non proprio con vari problemi fisici, si sta riprendendo bene. Quindi posso dire solamente un grazie a tutta la squadra, grazie per la loro collaborazione, grazie specialmente anche alle loro società che ci hanno permesso di fare un avvicinamento a questi europei, penso nel migliore dei modi. E adesso c'è il mondiale? Sì, adesso abbiamo un mesetto circa per preparare questo mondiale, è un nostro obiettivo, un progettivo primario. Sicuramente ci lavoreremo in questo mese, riprenderemo un po' la preparazione, la squadra in linea di massima ce l'abbiamo già in mente, i ragazzi pure sanno benissimo cosa gli aspetta, quindi iniziamo a lavorare fin da domani. Sì, ragazzi.